Qual è l'unità di misura degli angoli? Facile, facile. Gli angoli si misurano. Con l'orologio. L'unità di misura degli angoli. Me l'aveva fatto Luna, con l'orologio mi aveva fatto l'esempio. Io le ho chiesto semplicemente l'unità di misura. La presa è una brutta figura. Back to School, martedì 25 e mercoledì 26 in prima serata su Italia 1.